parlare con william mattioli e farsi un bagno ogni volta di ottimismo di passione e dedizione al lavoro sì perché il socio di vm forniture di rosciano ed ex idraulico in pensione ha sposato una vera e propria missione insegnare un mestiere giovani il mestiere dell'idraulico figura professionale molto latente ricercate i giorni d'oggi un corso del tutto gratuito che non riesce a raggiungere ancora il numero di partecipanti che il signor william si è prefissato a oggi com'è la situazione ancora abbiamo soltanto cinque iscritti però l'appello che voglio fare oggi è spargere la voce non sarà un corso obsoleto sarà un corso moderno sarà un corso che partiremo da quello che succedeva una volta a quello che serve di fare oggi parleremo dei vari impiani tecnologici parleremo di queste cose qui perciò ci tengo a avvisare i ragazzi perché dovete considerare un mestiere è come una laurea uguale al posto di laurearvi a 30 anni vi sistemate imparato un mestiere a 20 anni io penso che la soddisfazione è uguale che studiare fino a 30 anni e poi magari andare a fare lo spazzino questo è un po la mia idea posso iscriversi fino all'età di 25 anni perché dopo comincia essere un po più complicato sarete seguiti dai tecnici delle aziende perciò io avrei bisogno di sapere le adesioni entro almeno il 20 25 di luglio per comunicare alle aziende il programma per venirvi a insegnare invece la teoria la teoria dopo ci abbiamo i ragazzi i signori qui di Fano considerate che io sarò il vostro tutor sarò sempre lì presente devo anche ringraziare la VM Forniture che mi ha dato il permesso di fare questo corso per mettersi in contatto se potete telefonate al mio numero che io vi rispondo sempre prendiamo appuntamento se mandate una mail metteteci anche il numero di telefono così siete rintrecciabili subito io ringrazio tutti più di tutti Fano TV che ha creduto nella mia iniziativa io spero di raggiungere almeno una decina di persone perché ci ho 17 richieste come è finito il corso il giorno dopo siete al lavoro in regola sistemati a stipendio Gioele da quanti anni lavori per la VM Forniture? ormai saranno quasi otto anni sette barrotte ho iniziato per caso come mi sarei rappresentata a questa occasione che un amico mio mi aveva detto dopo ho iniziato qui e ho continuato qui cosa ti senti di dire ai ragazzi che ci stanno seguendo e che stanno cercando lavoro e magari dargli anche un suggerimento? che comunque il lavoro per chi vuole c'è impari un mestiere che comunque è sempre qualcosa di positivo che ti può essere comunque sempre utile anche in altri lavori perché non è che qui vendi materiale idraulico allora puoi fare soltanto materiale idraulico comunque io qui ho imparato contabilità ho imparato gestione del rapporto col cliente come ordinare un magazzino quindi comunque sono tutte qualifiche che possono essere anche utili in altri lavori vi invito a seguire il corso che ha messo in piedi il signor Mattioli perché comunque è gratuito e non è così scontato come si pensa e comunque non è da tutti alla mia età cioè quando ho iniziato io non c'erano queste cose c'erano corsi sì ma comunque tutti a pagamento e comunque è importante perché alla fine di questo corso verrà inserito in ditte specializzate importanti anche dove chi si impegna andrà e avrà anche secondo me un buon stipendio che comunque il ragazzo giovane non è così scontato e